Un testo molto importante perché vuole combattere la violenza di genere e quindi educare alla parità di genere con un'azione di prevenzione. Il disegno di legge cosa dice? Che all'inizio di ogni anno i vari enti, la regione, gli enti locali, l'ANCI, l'ufficio scolastico regionale, le università e la consigliera di parità mettono in campo progetti ed iniziative formative per il corpo docenti ma educative per i tanti ragazzi perché si possa appunto prevenire con la comunità educante, facendo comunità educante quelle che sono fenomeni di violenza largamente diffusi di cui la punta dell'iceberg sono i femminicidi, ben 70 dall'inizio dell'anno ma che riguardano tanti altri aspetti di violenza fuori e dentro le mura che colpiscono gravemente la violenza di genere nel nostro caso e per questo motivo noi siamo impegnati su un'iniziativa che vuole prevenire ed ed educare. Chiediamo al Consiglio regionale di approvarlo rapidamente perché laddove riuscisse ad approvarlo entro il mese di novembre a dicembre con la legge finanziaria potremmo dare copertura a queste iniziative che potrebbero ovviamente mettere l'Abruzzo in prima linea su un'iniziativa e un'azione di educazione e di prevenzione sulla violenza.